Sei una recluta e non vuoi perderti neanche un video di Rocket? Beh, facilissimo! Premi la campanella per abilitare tutte le notifiche e seguimi sui social che troverai in descrizione la pagina Facebook, il canale di Telegram e la nuova pagina di Instagram Buona visione! Siamo tutti i recluti, qui è Rocket e benvenuti ragazzi per questa nuova guida su Pokémon Ultra Sole e Ultra Dura Siamo qui ragazzi nella batteria di Pony di nuovo nella quarta isola dopo il video sui Censi e sui Blissi perché oggi andiamo a catturare un Pokémon leggendario perduto una leggenda ragazzi sparita e veramente trattata malissimo nei giochi Pokémon ovvero Zygarde ragazzi andiamo a catturare Zygarde che si trova appunto su Pony questa volta in Ultra Salute Luna quindi mi raccomando per diffondere il video al meglio ragazzi e anche ad altri fan un bel like per supportarmi, un commento all'idg una bella iscrizione al canale in quanto andiamo a catturare sia lo Zygarde al 50% e probabilmente cercheremo anche di ottenere la forma 100% in teoria non vi assicuro niente e il mio obiettivo è quello, ecco appunto proprio è un posto a caso questo come va Rocket? sì sono un nuovo campione ebbene sì, ebbene sì super cerchio Z, Mega Evoluzione ah adesso mi abita la Mega Evoluzione non dirmi che devo adottare perché no oh mio Dio ragazzi mi sa che devo fare un piccolo taglio perché non me aspettavo questa battaglia adesso quindi appena vinco ci rivediamo ok ragazzi ho vinto contro Dexio poi mi ha veramente fatto molto molto faticare cioè con Mega Lakazam grazie al 60 tutti al 60 a parte che anch'io mi sono allenato perché se no ragazzi non la vincevo mai questa battaglia per fortuna mi sono allenato ok qui mi da anche la pietra la pietra chiave e la Mega Pietra della Kazam ok la pietra chiave molto bene mi potrebbe fare comodo ragazzi anche a voi immagino e anche la Mega Pietra della Kazam alla Kazamite confirmed ok bene mi cura anche la squadra magari a meno non devo curarmi no cioè chiedere troppo proprio va bene niente squadra niente squadra curata mi dovrò ragazzi aggiustare da solo e siamo arrivati appunto al prato di Pony e da questo punto comincerà ragazzi la nostra ricerca per Zygarde dove avere il repellente attivato in ogni caso e in un luogo che ricorderete molto bene da Pokémon solo e Pokémon 1 ragazzi insomma spero di trovarlo subito di nuovo come avevo fatto nei vecchi giochi però è in un luogo familiare diciamo che l'hanno un po' riciclato questo luogo e dovrebbe essere ragazzi insomma da questa da questa parte a regola dobbiamo spassare tutto questo questo pezzo qua ok di qua non vedevo praticamente nulla con la nebbia ok tutta questa specie ragazzi di labirinto con insomma con le liane con questi alberi che fanno il raponte molto bene dovrebbe essere giusto dovrebbe essere un tipo una caverna eccola qua la discesa ragazzi fatidica molto bene spero che vi ricordiate di questo posto adesso ci sarà tipo un pezzo con il mazzo insomma fuoristrada se non ricordo male eccolo qua ok mazzo è il fuoristrada e speriamo di non incontrare ragazzi allenatori perché non mi va in questo momento non è un video sfida agli allenatori e no però qua ce n'è uno me lo ricordo guarda guardala guardala lì questo caso non si può evitare secondo me ce la farò evitarla ecco non ce l'ho fatta evitarla quindi mi sa che dovrò fare un altro bel taglio molto bene quindi dopo questa insomma scocciatura ragazzi di questa montanara con manectrica avevo manectrica al 57 59 se non ricordo male ok possiamo andare con il nostro mazzer e siamo praticamente arrivati il repellente è finito quindi mi tocca mettere ragazzi un altro repellente max se no veramente incontro incontro anche i pokemon di ottava generazione a momenti si trovò i repellenti però dovrebbero essere in questa in questa tasca qua si sopra le rom che non sono quelle di pokemon eccolo qua il repellente max ultimo tra l'altro quindi potrò usarlo a pieno ok ragazzi dovrebbe essere qua la grotta eccola qua una grotta che in sua luna era insomma adibita ad un altro scopo ovvero ospitare gods lord uc 05 e possiamo vedere che c'è una specie di altare e vedo già una coda verde laggiù ed ecco dove l'hanno messo poveraccio ragazzi guardatelo quanto sta soffrendo vabbè sfidiamolo e cerchiamo di catturarlo guard bene ancora una volta dopo kalos ragazzi una grotta così a caso eccolo qui povero povero zygarde ragazzi guardatelo ancora una volta è stato messo da parte dopo giochi e giochi insomma 60 molto bene potete tirare direttamente la master provo insomma indebolito un secondo ma se poi farò ovviamente qualche taglio quella forza tellurica mossa tipica tanto io ho supportazione quindi puoi fare questa mossa quanto vuoi a me non tanto non importa quindi insomma scatenati pure sfogati pure con me che ti hanno messo da parte ancora una volta buon danno tra l'altro ragazzi ma è veramente ottimo bene poi andiamo a catturarlo velocemente un altro terremoto per fare il suo lavoro e poi proverò attivare qualche ultable non mi ha paralizzato e questa è una cosa che apprezzo dal caro zygarde ovviamente ragazzi pokemon di tipo dragotev della regione di kalos che è qui di nuovo nella regione di alola per motivi che mi sfuggono e sfuggono a tutti noi però vabbè ragazzi zygarde è sempre il top allora le ultable non usevo la master ball e se non ci sta tipo in due ultable così poi farò qualche taglio ragazzi perché non posso mai vedere 20 minuti di cattura non è proprio tecnico tattico su questa cosa qua adesso vedi che ok pensavo di catturarlo subito che vergogna finalmente ragazzi l'ho catturato dopo tipo altri 7-8 ultra ball quindi ha avuto insomma un po' di resistenza questo zygarde però ragazzi alla fine c'è stato insomma in questa ultra definitiva e che lo cattura definitivamente eccolo qua con una posa diversa dal vecchio dex ragazzi di sole e luna hanno un pochino modificato le varie vai sprite del dex catturato il zygarde ragazzi che era qui appunto da l'ora dragoterra pokemon equilibrio forma 50% appunto quindi sarà appunto l'argomento della parte finale del nostro video ok invia il box no facciamo aggiungere la squadra anzi perché forse mi servirà quindi mazzel visto che è andato possiamo anche elevare al momento ok ciao mazzel ti recupererò fra poco ha un petrum z ovviamente ma noi ragazzi lo inviamo lo stesso al box non ce ne importa niente ok quindi adesso mi sa che farò un piccolo taglio dato che non c'è nient'altro qualche strumento che ci lascia niente e mi farò trovare ragazzi alla residenza ed se non ricordo male sul percorso 16 eccomi qui appunto ragazzi nel percorso 16 vicino alla residenza ed di questo percorso quindi direi di entrare e vedere se effettivamente quello che volevo fare si può realizzare adesso oppure no molto bene eccoli qua di nuovo ecco ho trovato zygarde nella caverna clang se è il campione mi sembra giusto ok in realtà anche noi abbiamo cattuato uno quindi ce ne sono due due zygarde ebbene si ragazzi ce ne sono due 50% come sapete due zygarde ok ho trovato nella caverna e la forma 50% il nostro ah la forma 10 mamma mia potevi dirlo prima ok forma 10 forma 50% uno zygarde molto particolare che può assumere forme diverse in base alla situazione questo lo sapevamo già non cadiamo dalle nuvole una proposta da farti ok molto bene quindi mi dai solamente uno zygarde e devo accettare un'altra sfida ragazzi quindi mi sa che dovrò battere di nuovo e poi ottenere lo zygarde quindi un'altra battaglia ebbene si bene ragazzi sono riuscito a battere ancora una volta per la seconda volta ragazzi un po' troppo siccome due sfide con un dexio di fila perché è potente usava anche zygarde 10% cioè quindi non molto non molto buono vabbè comunque si è rubato tutto ancora una volta con un po' di difficoltà e mi ha dato anzi mi darà adesso lo zygarde quello 10% ovvero il loro zygarde ragazzi adesso andiamo un po' a maneggiare a maneggiare la macchina quella lì che vedete sulla destra per vedere se è possibile già ok sopra il nome no grazie quindi ho già un posto in team bene quindi adesso possiamo vedere un po' questa macchina per ottenere quello del 100% oppure insomma non si può ancora ottenere vediamo un po' è una macchina per aggregarlo bene ok scomporlo quindi ragazzi per scomporre le cellule molto molto bene aggiungere delle cellule hanno un zygarde esistente oppure creare uno zygarde a zero usando le cellule che hai trovato ok quindi io vorrei ottenere quello 100% così per dimostrare che si può ottenere ok ok quindi c'è qualcos'altro tornando nella teca di zygarde ovviamente 100 cellule che non ho ancora catturato ragazzi non ce l'ho ancora ok ecco la teca la teca la teca di zygarde che non ce l'avevano dato prima se non ricordo male o si vabbè comunque sia adesso ce l'abbiamo ok ci sono qua 40 cellule molto bene che hanno già preso l'oro molto bene quindi è di calos se adesso così per sbaglio è a passo ad alora molto bene vediamo un po' ragazzi qua cosa devo fare allora cosa vuoi fare voglio aggregare quindi posso aggregare solo teca zygarde teca zygarde e zygarde in squadra beh allora entrambi a sto punto scegliamo zygarde beh scegliamo quello prima quello 10% in ogni caso dovrebbe essere così il procedimento vediamo un po' ok forma 50% vuoi procedere? sì qui ragazzi dovremmo esserci molto bene è dato un nuovo zygarde molto bene quindi bisognava solamente scomporre forse ragazzi ci sono arrivato era un pochino insomma contorta bisognava scomporre un zygarde 50% poi aggregare di nuovo tutto con teca zygarde e zygarde in squadra proviamoci ok scegliamo zygarde che non è solamente più uno questo qua spero si possa usare anche se non ha più energia speriamo di sì veramente ok dovrebbe andare ok 50 alimenti della teca avevano insomma fusi aggregati con questo zygarde vediamo un po' sono perfetto vuoi procedere? sì quindi ragazzi dovremmo avercela fatta era un procedimento un po' contorto e quindi abbiamo un nuovo zygarde proviamo quindi ragazzi ad affrontare questo allenatore per vedere appunto con solamente un po' per vedere se l'abilità effettivamente funziona abbiamo fatto un buon lavoro in questo video speriamo bene in quanto insomma ragazzi dovrebbe aver assemblato le cellule in modo giusto nella macchina sul percorso 16 di Dexio e di Sina quindi speriamo veramente che ce la faccia allora io non voglio fare troppo male a questo coso quindi vado leggero con un dragospiro anche perché se funziona mi deve togliere almeno metà vita questo Mian Shao quindi veramente oppure gli ho fatto male gli ho fatto troppo male calci in boro bene peccato che non toglierà praticamente niente però toglie proprio il giusto quindi ragazzi abilità confermata funziona sembra funzionare grazie Mian Shao per questa dimostrazione insomma di potenza ragazzi vi ho spiegato appunto come ottenere sia il Zagard 50% volendo anche quello 10% e la forma perfetta in Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna adesso un bellissimo dragospiro e abbiamo finito il tutorial che per me sarà stato molto lungo per le battaglie con Dexio e gli dicendo per voi non così tanto lungo però vabbè ragazzi spero vi sia stato veramente utile Zagard non lo riesce a buttare giù un Mian Shao con Dragospiro stabato quindi grandissimo Zagard forma perfetta cominciamo veramente bene ragazzi mi raccomando io vi invito a lasciare un bel piaccio per supportarmi se il tutorial vi è stato utile per diffonderlo al meglio sulla piattaforma insomma un bel like un commento di giro una bella iscrizione al canale per supportarmi ancora di più quindi ragazzi per oggi a Rocket direi che è tutto un saluto per oggi e ovviamente bye bye bye